Allora, sono rientrato, sono stanchissimo, non ho fatto neanche un check della mia situazione perché sono rientrato da poco, da tre giorni a Milano, ho anche incontrato Giovanni, abbiamo pranzato insieme, abbiamo fatto un'ottima chiacchierata e quindi sono rientrato veramente da un paio d'ore a casa. Quindi tutto posto. Come sempre la mia idea è partire da delle domande che sono state fatte nel gruppo Telegram oppure se ci sono delle domande in live. Ci sono alcuni argomenti che volevo affrontare perché c'erano stati degli spunti abbastanza interessanti che volevo affrontare con voi. Alcuni giorni fa ho pubblicato un video in cui parlavamo del guadagnare i side hustle, no? Un estratto da una live fatta qualche settimana fa. E lì il messaggio principale era quando volete fare qualcosa per guadagnare di più, per farvi una seconda o terza entrata, per comunque mettervi un attimo in discussione, bisogna fare attenzione a tantissime cose perché ricordatevi che l'Italia non è la nazione più facile all'interno della quale fare impresa per tantissimi motivi. Vengo oggi da una... ero in tribunale a Milano, no? Quindi senza entrare in dettaglio. Però l'Italia è veramente una nazione complessa per lo spirito imprenditoriale, per cui bisogna sempre muoversi con i piedi di piombo. Ma in particolare il mio messaggio era su cosa scegliere come business. È uno dei punti, facendo riferimento agli insegnamenti di Daniel Presley, che se non lo conoscete è il business coach di Ali Abdaal. E lui dice chiaramente, fa questo esempio del... se avete razziare dei side hustle, dei business, invece di andare sempre a fare stretch su delle zone nuove. E c'è stato un commento sul video che però poi è stato cancellato, però l'avevo catturato perché era interessante, e diceva, ma in maniera forse un po' scherzosa, diceva è un atteggiamento un po' da boomer quello di non rischiare e non esplorare. Ora volevo chiarire questa cosa perché non era quello il messaggio. Mi sono espresso male o è stato colto male? Cioè il principio è, ovvio che se hai 20 anni e non sai niente di verticale, non è una competenza specifica, devi esplorare, ti devi lanciare, devi assolutamente capire e sviluppare delle competenze sulle quali costruirai la carriera, il business, la tua identità professionale e via dicendo. Il messaggio era per chi inizia a fare questo percorso un attimo più avanti. Cioè ovvio che sei a 45, 50 anni, 40 anni, ma anche prima dici voglio fare qualcos'altro, prima di investire soldi, tempo ed energia per partire da zero in un settore di cui non sai niente ma semplicemente magari è venduto molto bene, verifica se puoi capitalizzare quello che già hai. Se stai già seduto o seduta su una montagna di dieci anni di competenze in contract management, nel settore IT o altro, va benissimo esplorare il mondo immobiliare. Però lì parti da zero e ti metti in pari con tantissime persone a partire da zero e magari ti richiede anche tanti soldi per iniziare e mentre probabilmente puoi prendere quello che per te è scontata come competenza e il fatto che sei più avanti di un x per cento rispetto a chi sta entrando adesso in quel percorso ti rende già appetibile come coach, come consulente o come guida per la formazione. E quella quindi può essere un'attività di business immediatamente attiva sulla quale probabilmente si può monetizzare. Era questo il tipo di messaggio che volevo dare, non era un non fate altro, state con i paraocchi e via dicendo. Perché lì è uno dei punti fondamentali. Tra l'altro credo che proprio oggi sia uscito nella newsletter di Ali Abdaal il riferimento a un libro, fatemi vedere perché è un libro che lui ha appena letto di una persona che ha scritto, che ha un podcast, però il libro nello specifico si chiama Two Weeks Notice, è scritto da questa autrice che si chiama Amy Porterfield e il libro è sul come creare un business da zero, lei parte in realtà il messaggio visto all'inizio del libro è molto per le donne come diventare indipendenti ma vale per tutti e lì diceva proprio tu non hai bisogno di essere l'esperto totale mondo di qualcosa, basta che stai anche solo un 10 per cento davanti a chi ti segue e già hai qualcosa da trasmettere. Ora questo era ovviamente per motivare, per dare qualche spunto, però il messaggio è proprio quello, cioè non sto dicendo di non esplorare, non imparare, non fare altro, sto dicendo di non fare come citando Joker, il cane che abbaia dietro tutte quante le macchine che passano. Se avete già qualche struttura cercate magari di approcciarla sotto diversi aspetti, capitalizzare e renderla il core del vostro business perché vi dà un ottimo vantaggio competitivo sul mercato. Esatto, LB direi il principio a investire sulle tue competenze e costruire su quelle, magari espandi o rafforzi la tua conoscenza su determinate aree. Sì, bisogna trovare anche il proprio bilanciamento, se io magari sto facendo un lavoro di un certo tipo ma la mia passione è la musica, ok, allora magari in quel caso ha senso vedere se quello può diventare qualcos'altro. Quello a cui io dico di fare attenzione è proprio il credere, no, la famosa erba del vicino sempre più verde o il credere sempre che sia quello che mi manca, quello che non ho, la parte che manca per la svolta. E questo ci fa rincorrere corsi su corsi, guru su guru e via dicendo. Mentre a un certo punto ci dobbiamo fermare e dire ma io chi sono oggi, che tipo di percorso ho? Pensate soltanto quelli che creano un business, gli studenti universitari o i neolaureati che creano un business, una community, una formazione aiutando chi sta entrando in quell'università, chi sta studiando o via dicendo. Cioè non sei la persona con 30 anni di esperienza, però la tua esperienza di neanche soli di tre anni o soltanto l'aver superato quei test, già la puoi capitalizzare e rendere un business profittevole. Questo è un buono spunto di riflessione. Ricordatevi una regola in generale. In generale quando parliamo di fare business in Italia dovete sempre ricordarvi che lo state facendo all'interno di un ambiente ostile. Ostile perché i vostri diritti non saranno mai tutelati, perché il sistema giuridico è fallace in ogni dimensione. Ostile perché è molto facile essere truffati, raggirati o comunque esporsi a determinati rischi all'inizio quando non si ha esperienza. Ostile perché c'è tantissima gente là fuori che non vede l'ora di trovare la persona che ha fretta, soprattutto quando iniziare a fare queste cose magari mettendoti insieme a qualcuno, si cerca l'esperienza, si ha voglia di fare, no? Di come direbbero gli inglesi quando la gomma tocca terra. E però questo ci espone veramente a tanti personaggi. Il gatto e la volpe esistono, ragazzi. Io li ho incrociati, vi assicuro. Per cui fate attenzione a questo. Ricordatevi che non siamo nella nazione in cui è più facile lineare fare business o fare determinate scelte e soprattutto ricordatevi che non dovete mai fare un discorso di ah vabbè ma tanto in caso sono protetto oppure ho ragione io. Quello proprio lo potete buttare tranquillamente nel cestino. Non esiste una legge che vi protegge, un sistema... potete passare anni a fare causa e poi comunque non essere rimborsati perché sì, l'altro è stato condannato a darti 15.000 euro. Lo sai che poi devi spendere altri 5-10 per fare la causa, per farteli dare e se quella persona si muove bene non li avrai mai. Quindi lasciate... cioè fate tutto quello che va fatto perché è bellissimo esplorare e fare cose ma sempre sempre con piedi di piombo, mutande di latta e corazza d'acciaio addosso. Ci siamo capiti. La sindrome dello shiny new object, no? Quello che è luccicante è presente anche nei side hustle. Esatto, guardate e c'è proprio una visualizzazione di Daniel Priestley. Lui proprio fa il cerchio e dice noi abbiamo queste nostre competenze e continuiamo a uscire per andare a esplorare questa parte mancante perché tipicamente è quello che manca che non abbiamo la parte dove c'è la svolta. In ottica di massimizzare la propria carriera, richiedi che la scelta del luogo in cui vivere sia ancora oggi la decisione più importante da porsi? La scelta del luogo dove vivere come primo punto e poi avvalle il discorso della carriera per me è fondamentale, per vari motivi. Ne ho anche parlato con Davide Cervellin quando mi ha intervistato nel suo podcast, metterò i link in descrizione, vi consiglio di andare a vedere. Sapete, Davide ha questo podcast, Office of Cards, con sempre ospiti interessantissimi e ora lo posso dire perché sono stato ospitato anch'io. In queste due settimane sono usciti due pezzi del podcast e anche lui è d'accordo con me su quanto sia impattante nel medio-lungo termine la scelta di dove andiamo a vivere. Per vari motivi. Uno, la qualità della vita, l'ambiente, il contesto può veramente far la differenza a livello di network, a livello di salario, a livello di opportunità lavorative e soprattutto a livello di qualità della vita. Non è banale considerare che voi potete avere degli stipendi straordinari o lavorando in Svizzera o lavorando in un container nel deserto. Se guardi solo lo stipendio probabilmente sono uguali, ma parliamo no di tutto l'altro contesto. Oppure gli stipendi in Svizzera sono assolutamente equivalenti, se non superiori in certi contesti, a quelli a Dubai. A tutti vanno a Dubai pensando che sia quella la terra promessa e poi in mezzo alle cose positive, sento anche tanti racconti di cose problematiche da gestire nella qualità della vita, vi dicendo, e la gente deve mettere on hold una serie di dinamiche del quotidiano e anche forse di valori per poi tornare con magari la saccoccia piena e magari può averlo fatto da un'altra parte. Però al di là della parte poco confronto, io ho sempre fatto la scelta principe di dove andare a vivere. Ho anche raccontato che quando a 42 anni ho deciso di tornare all'estero mi ero fatto la short list, quindi avevo messo la Florida perché mi interessava come porzione degli Stati Uniti per la parte mercato immobiliare e per altri aspetti e quindi sono andato tre settimane a esplorarla. Mi interessava l'Inghilterra, ci avevo già vissuto, quindi la conoscevo bene. La Spagna altrettanto, ci andavo spesso per lavoro, quindi la conoscevo bene. Malta l'avevo messa in short list e quindi sono andato in viaggio a Malta e non mi ha minimamente affascinato, soprattutto perché è un'isola piccola, non vedo interessante come opzione. E poi c'è stata la Svizzera che ha 2000 vantaggi. Quando ho scelto la Svizzera poi ho lavorato per trovare le opportunità di carriera. A mio avviso è davvero molto interessante per tutti questi fattori. Immaginate come anche no per l'università, cioè fare anni di università o la magistrale in una nazione che è molto dinamica in un certo settore, che ha tantissime aziende, che mi permette di crescere in un contesto internazionale. Pensate al livello di network che mi può dare, al livello di contatto con le aziende e soprattutto le esperienze di vita. Sapete che io sono molto favorevole agli scambi internazionali, per cui sì, credo che sia ancora determinante. Il remote working. Allora, questo è un argomento molto importante e bisogna considerare una cosa, secondo me è un po' tipo intelligenza artificiale. C'è e non se ne andrà. Ora, che possa essere modulato in diverse maniere, che possa essere gestito in varie forme, però è assolutamente innegabile il fatto che la pandemia ha accelerato tutta una serie di processi e ha messo tantissime aziende e persone nella posizione di sviluppare delle dinamiche e delle opportunità che quattro anni fa erano assolutamente impensabili. Parlo io che sono 100% in remote working adesso. Ora, la situazione è molto diversa a seconda delle persone, nel senso che io ho iniziato a lavorare, ho fatto la mia 22-23 anni prima dell'impatto del remote working e quindi è chiaro che ho tutta la mia esperienza di ufficio. Poi prima ero in questo campus con 10-13 mila persone a seconda del periodo, quindi immaginate quanto forte fosse tutta la parte social. Ho sempre lavorato in grandi aziende e quindi sempre tantissimi colleghi in giro per l'Europa. Ci sono varie fasi della carriera e della vita, per cui in certi momenti può avere più valore il lavorare in remoto. Il togliere i costi, i tempi e l'energia del commuting, a mio avviso, ha un valore inestimabile. Non si può non considerare il miglioramento della qualità della vita, del non passare due ore in macchina al giorno. Ragazzi, è una cosa folle. Però, d'altro canto, penso anche a chi è nella situazione opposta. E anche qui lo spettro è diverso, nel senso che, paradossalmente, chi inizia a lavorare in contesti che hanno già molto in remoto, probabilmente non sente neanche l'assenza della fisicità dell'ufficio, perché è già partito così. Magari chi è un attimo più in sofferenza, chi ha fatto un anno, aveva appena iniziato a entrare nel meccanismo del lavorare in presenza, e poi si è trovato con un impatto positivo o negativo forte del remote working. Però per me il lavorare in remoto fa parte di quel pacchetto di flessibilità e di maggiori opportunità che ha più lati positivi che negativi. La battuta è molto semplice, chi vuol tornare in ufficio sono quelli che hanno casini a casa. È una battuta, ma nasconde una grandissima verità, ragazzi. Guardatevi attorno, seriamente. Però il remote working, pensate soltanto alle opportunità che vi danno a livello di carriera. Il quanto può veramente aprirvi la strada a lavori in Italia e all'estero, togliendo tutta la problematica di logistica di trasferimento. E cioè, tu oggi, se vai su Indeed, su LinkedIn e cerchi lavori, per una certa posizione puoi veramente guardare ad ampio spettro internazionale. Perché nel momento in cui hai un'azienda, poi ovviamente devi trovare la soluzione contrattualistica che ti può assumere per una posizione in remoto, hai svoltato. Non devi più partire letteralmente con le valigie di cartone e fare determinati... In positivo e in negativo, dicevo, perché per me l'esperienza all'estero è bellissima e interessante, ma se uno ha delle esigenze di famiglia, parenti da accudire, oppure per X motivi non si può permettere di spostarsi e via dicendo, comunque ti sta dando un pacchetto di opportunità che prima non c'erano e quindi lo apprezzo molto. L'impatto lato networking, il networking lo crei comunque, anche nel mio caso, cioè il team con cui io lavoro, quelli di finance sono in India, i colleghi di procurement sono in Germania, gli altri colleghi di business sono distribuiti in giro per il mondo. Io, riunioni con in presenza tutte le persone nella riunione, non ricordo più qual è stata l'ultima, probabilmente 4-5 anni fa. C'è sempre qualcuno collegato a un remoto, per cui a questo punto che siano 3 su 5 o 5 su 5 non cambia veramente niente. Quello che ti cambia, sì, è la chiacchiera, la parte social con i colleghi, arrivati a certi livelli anche la parte di office politics, perché ovviamente ci si deve vedere per determinati discorsi, per capire che aria tira, per cogliere meglio le tensioni, però ragazzi il remote working c'è e non se ne andrà, per cui è bene imparare a gestire, capire quanto è affine a come siamo noi e quanto per le varie fasi della nostra vita e carriera può tornare utile. Quindi ha impatti sia in positivo che in negativo, perché adesso è molto più normale e sdoganato il concetto di fare networking e collegarsi con persone dall'altra parte del mondo, mentre più magari sarebbe risultato un attimo più anomalo. Quindi come sempre in tutto positivo e negativo. Quanto è realmente complicato una laurea italiana, anche top ex Bocconi, iniziare all'estero, per esempio svizzera? Il mercato estero è aperto a tutti, per cui se avete interesse ad andare all'estero, io consiglio da neolaureati di cercare subito un lavoro all'estero. Sento spesso parlare di mi laurea, mi laureo faccio un'esperienza e così tra due o tre anni con questa esperienza sarò più appetibile all'estero. Non credo ci siano dei dati che supportano questo approccio. Cioè, se sono interessato ad andare a vivere in Germania, in Inghilterra o in Svizzera, durante la laurea, ricordate, non dovete aspettare la fine della laurea, durante la laurea inizio a creare collegamenti con le aziende, con le università e internship, collaborazioni, tesi, lavori, posso anche iniziare a lavorare e poi laurearmi. Stavo proprio oggi parlando con un'amica, il figlio è all'estero, aveva iniziato a collaborare durante la laurea, alla fine gli hanno fatto un contratto temporale, poi uno a tempo indeterminato e adesso si prenderà la laurea mentre sta lavorando a tempo pieno. Perché? Cioè, noi abbiamo questa grande tendenza a stare con la testa bassa fino al momento della laurea, alla laurea mi alzo cosa c'è nel mondo. No, cercate di lavorarci pesantemente prima. Ed è la stessa cosa al lato lavorativo. Se sono interessato a un'esperienza all'estero, subito, vai. È difficile? Sì, è difficile perché stiamo parlando di nazioni che sono in particolare alcune, tipo la Svizzera, che sono probabilmente... la Svizzera probabilmente, a mio avviso, è il posto più difficile al mondo in cui entrare. Il livello di competizione per entrare è impressionante e i filtri all'ingresso sono altissimi, sia a livello burocratico che a livello aziendale, come requirement e via dicendo. Per cui, quando andate all'estero, aspettatevi tantissima competizione, tanta difficoltà, ma tantissime opportunità. Per questo, prima iniziate a giocare in quella lega, è meglio. Prima capirete quali sono le regole, prima capirete come funziona, su cosa concentrarsi, su cosa lavorare e prima sarete pronti per quel tipo di mondo. Volevo fare un'altra considerazione sul discorso del remote working. L'avevo accennato l'altra volta e anche questo lo trovate tra i contenuti Daniel Prisley. Ricordatevi che la bellezza del lavorare in remoto e quindi avere accesso ad opportunità e stipendi anche internazionali, a un certo punto asintoticamente andrà in una posizione non necessariamente piacevole per noi dell'Occidente ricco. Mi spiego. Oggi è molto facile visualizzare dei lavori che sono pagati 50 in Italia, 100 in Nord Europa e 10 nella parte povera del mondo. Ecco, quando questi lavori saranno sdoganati e ufficialmente gestiti in remoto, non aspettatevi che rimarranno a 100, quindi molto probabilmente si troverà un equilibrio intorno ai 30, immagino. Quindi attenzione anche a quello, considerate che le dinamiche dello smart working, soprattutto sulla parte salariale, quando si sbloccheranno e si costruiranno questi meccanismi dei salari internazionali e tutto. Così come noi oggi siamo felicissimi di trovare delle opportunità fuori più pagate che in Italia, ricordatevi che per ognuno di noi ce ne sono 20 in una parte del mondo che guadagna un decimo di quello che guadagniamo noi e quindi è molto probabile che per il principio dei vasi comunicanti il punto di pareggio sarà molto più basso di quello che ci aspettiamo. Quindi tenete a mente anche questo nelle considerazioni sullo smart working, sulla flessibilità lavorativa e sulle opportunità in generale, questo fa appunto parte dei pro e contro di quel meccanismo. La parità di competenze, la differenza lo fa il processo e i meccanismi di selezione. Cambiano un po' le dinamiche secondo me, ma conta anche l'aspetto culturale. Allora è un mix ragazzi, io ho fatto, io ho lavorato in Belgio, Inghilterra e in Svizzera. Allora ovviamente la parte più corposa lo fa l'azienda rispetto alla quale vi state candidando, no? La cultura aziendale, come gestiscono i processi di selezione, chi li fa, sono interni, esterni, quali sono i passaggi e via dicendo. Poi dovete considerare che a seconda della nazione i competitor sono diversi. Quante persone da quali parti del mondo si candidano per quel tipo di posizione sarà presente su tutte le posizioni probabilmente. Se io sono l'azienda famosissima in una nazione è probabile che ogni volta che metto fuori una posizione mi arrivano da tutto il mondo candidati e quindi posso facilmente mettere la sbarra abbastanza alta. Ricordatevi che ci sono degli aspetti come il conoscere perfettamente inglese, che di tale è un asset, non dico raro, ma sicuramente non banale. Ci sono altre nazioni dove un bambino delle scuole medie parla inglese come noi dopo anni di lavoro e quindi questo rende molto complicato il processo, cioè veramente la grande qualità dei nostri competitor nei processi di... quando facciamo l'application per delle posizioni. La parte culturale la dovete considerare sotto vari aspetti, cioè un'azienda veramente multinazionale ha più nazionalità rappresentate nei suoi dipendenti e quindi un approccio più neutro. Paradossalmente Toyota, Toyota in Europa è veramente una multinazionale. Se voi andate nel quartier generale a Bruxelles, nell'headquarter a Bruxelles o quello ingegneristico a Zamentem, e io mi ricordo i numeri erano del tipo, erano rappresentate 26 nazionalità su alcune centinaia di impiegati. E se è veramente in un contesto internazionale, se andate nell'azienda tedesca che copre il mercato tedesco, che c'è una forte cultura tedesca e quindi sono molto molto strutturati culturalmente lì, allora probabilmente avrete delle aspettative e un impatto culturale molto tedesco, no? Oppure anche dei sottoteam possono essere anche nelle aziende multinazionali, magari se c'è delle divisioni che sono più locali per il tipo di business che fanno. Ecco, quello può impattare. La parte culturale io la considererei soprattutto rispetto a quello di cui parlavamo prima, cioè la nazione in cui andate a vivere. Assicuratevi che sia una nazione che è in linea con il vostro stile di vita, con i vostri valori, con quello che vi aspettate dalla qualità, perché non è tutto lavoro. C'è anche la parte esterna a contorno che può influenzare tantissimo. A mio avviso tutte le nazioni hanno degli aspetti molto stimolanti, molto interessanti. E poi, ragazzi, io vi dico sempre partite dal presupposto che quando iniziate una posizione di lavoro, quando approcciate un'azienda, quando iniziate un percorso, ragazzi, a un certo punto si può cambiare. Se le cose vanno bene, ok, potete fare un'esperienza di un certo periodo di lì. Ma se per caso dovesse non funzionare, non c'è chimica, la cultura aziendale cambia, le cose non sono come ve le aspettavate, dopo uno o due anni o anche prima, se la situazione è critica, cambiate. Cioè non vi state sposando nessuno. E anche se fosse un matrimonio ci sarebbe il divorzio. Per cui non abbiate paura, non abbiate la... non aspettate di trovare proprio il lavoro perfetto. Io devo cercare il lavoro per la mia carriera. Ma che ne sai, magari ti dura uno, due, tre anni. Gente che entra in una posizione e rimane in quell'azienda per 40 anni, veramente se ne conosce pochissima. Quindi considerate questa tra le armi a vostro vantaggio, il fatto di essere in un contesto ormai lavorativo flessibile con tante porte che si aprono in continuazione davanti a voi. Se siete pronti, se avete il giusto mindset, se siete dinamici, se nel frattempo imparatevi, mettete in discussione e avete sempre l'orecchio a terra. Allora, Andrea chiede, devo selezionare una meta per Erasmus. Che ne pensi di Emilion? Non conosco. Erasmus cosa studi? Fatemi googlare. Emilion Business School? A Eculi? Enfance? Ah, quindi credo stai parlando della Business School a Lione? Forse. Non lo so. Allora, ragazzi, è quello di cui parlavamo prima. Cioè, Erasmus, fighissimo, opportunità di andare all'estero. Ci sono anche lì varie scuole, c'è chi dice perdi tempo, ero a tavola proprio con degli amici, con figli all'università e lì c'è due visioni diverse. Da un lato l'Erasmus, esperienza bellissima, esperienza che ti porta all'estero, contesto internazionale, ti fa crescere, ti espone e via dicendo. Dall'altro lato, a seconda dell'università, l'Erasmus può essere un problema. Allora, io mi sono laureato nel 98, nel 97 avevo iniziato a considerare l'opportunità di fare l'Erasmus, a quel tempo l'opportunità era all'Imperial College di Londra e io ho una laurea in Ingegneria Elettrotecnica. Erano gli albori proprio dell'Erasmus, soprattutto per la nostra facoltà, per cui era un macello, cioè non trovavi niente, non c'erano indicazioni, dovevi trovare tu cosa fare, i moduli, quali erano le procedure e poi non c'era nessun supporto e ancora oggi sento che spesso è problematico. Perché? Perché i professori sono molto protettivi, come insegno io questa materia non l'insegna nessuno, quindi ci sono delle università che ancora oggi vai fuori, studi, passi l'anno, i sei mesi o quello che è all'estero, torni e poi ti devi fare l'esame con il tuo professore come se non avessi fatto niente in quel periodo, oppure fai gli esami e quando torni ti fanno fare un'integrazione che è come fare l'esame ex novo, perché come spiego io questa materia che sono il più figo del mondo non la spiega nessuno, quindi occhio anche a capire quanto l'università vi agevoli o meno e per esempio come dicevo a tavola una delle discussioni era da un lato i pro del fare questa esperienza, dall'altra ma levati davanti la laurea al più presto e buttati subito nel mondo del lavoro, te la fai dopo l'esperienza all'estero. Dovete sempre considerare in base al tipo di carriera che state facendo, al tipo di percorso, al tipo di università. Se ricordo bene quando ho intervistato Andrea Zanon, andate a vedervi l'intervista che è veramente bella e seguite il suo canale perché è molto interessante soprattutto per quelli appassionati di economia, business and management, lui diceva che era andato a studiare in Francia ed era rimasto scioccato dalla diversità nel metodo di studio. Lui faceva l'esempio che invece di usare per fare l'analisi delle aziende le finte aziende con bilanci semplificati diciano no, prendete un'azienda quotata, scaricatevi i documenti e l'esame si fa su quello, mentre in Italia fai i modellini semplificati e poi quando vai nel mondo reale non sai dove iniziare perché la realtà è tipicamente molto molto più complicata. Ecco dovete considerare vari fattori, poi la parte specifica, appunto Andrea dice lui studia economia management, per me è proprio l'esperienza all'estero che è una figata, però assicurati di non danneggiarti in quest'altro esempio, no? Cioè se vai fuori e poi torni ai professori, gli roda perché sei andato a studiare fuori e quindi ti danno il tormento e ti fanno perdere quasi un anno perché devi rifare tutto quanto consideralo. Poi l'estero eventualmente se sei in quella situazione te lo puoi fare dopo la laurea. E sul discorso di prestigioso, questo non lo so quanto sia prioritario la sede prestigiosa, a mio avviso l'Erasmus di per sé è una figata. Fatti le valutazioni molto dettagliate su soldi, tempo, energie e risorse, ripeto l'Erasmus o l'esperienza all'estero magari fatta come internship, come attività estiva, come qualunque tipo di collaborazione tesi, è sempre una cosa che ti apre gli occhi e ti fa vedere come si muove il resto del mondo. Specificatamente Andrea quando mi chiedi le migliori business school, università per management, economia, non è il mio settore quindi io mi attengo, cioè se parliamo di business school per la parte executive education, MBA e via dicendo, allora prendete le due liste, quelle considerate normalmente il Financial Times e il Wall Street Journal, le hanno tra l'altro aggiornate poco fa e vi ricordo che la Bocconi è nelle top ten in entrambi, mi sembra al sesto posto in una e al terzo posto nell'altra, quindi strepitoso come risultato visto che sono elenchi a livello mondiale. Quando parliamo invece lato università c'era Andrea Zanon, aveva fatto un'analisi e lui parlava del fatto che se si parla di economia per lui in Italia è Bocconi, stop, seconda opzione era Cafoscari e mi sembra Bologna, non ricordo, però ha un video in cui parla di queste cose esattamente, quindi la trovate informazioni molto più precise. Marcello chiede, il settore assicurativo in Svizzera offre buone opportunità di lavoro? Quali sarebbe il background ideale per essere candidati appetibili? Allora, le assicurazioni in Svizzera la fanno da padrone, le assicurazioni, poi anche i fondi pensione e via dicendo, sapete, la Svizzera tutto ciò che è vari aspetti del mondo finanziario sono molto importanti. Il curriculum specifico non lo so, però vi ricordo lato Svizzera sicuramente dovete fare molto network, capire come funziona le varie aziende, ricordatevi che quando vi candidate in Svizzera dovete avere sempre tutto pronto. Ovviamente la Svizzera italiana, quindi il Ticino, offre molto molto meno del resto della Svizzera. L'Italia sta al Ticino come il Ticino sta alla Svizzera interna. Quando io ero a Lugano e stavo facendo la mia ricerca per lavoro, a un certo punto avevo fatto un'analisi, potete farla anche voi, prendete i dati del UBS sulla nazione Svizzera dove vi dice, che ne so, popolazione suddivisa per cantoni, se prendete le posizioni aperte in totale per cantone e dividete per il numero della popolazione, vedete che le offerte di lavoro nella Svizzera tedesca sono sette volte maggiori delle offerte di lavoro per numero di abitanti, ovviamente, della Svizzera italiana. Quindi è proprio un altro mondo. Cioè già andare in Ticino dà tante opportunità, ma andare nella Svizzera tedesca apre veramente le vere opportunità di carriera. Quando vi candidate per la Svizzera ricordatevi di avere tutti quanti i documenti tradotti, tutto quanto pronto, delle referenze, loro ci tengono molto ad avere questi fascicoli con tutto pronto e vi ricordo per la Svizzera specificatamente vi dovete fare il casellario giudiziario, eventualmente l'analisi CRIF, perché quando ci sono le assunzioni, tutti i certificati universitari tradotti, dovete avere tutto quanto pronto perché se arriva l'opportunità e poi ci serve il certificato di laureo o degli esami sostenuti, ah sì un attimo lo chiedo, tra due settimane me lo danno, ciao, due settimane hanno trovato un altro, quindi preparatevi con tutto quanto. Però sicuramente è un settore molto interessante con tante opportunità, le assicurazioni in Svizzera sono tantissime, sono grandi colossi, poi tutti hanno assicurazioni in Svizzera perché ci sono appunto le assicurazioni per la parte sanitaria che sono obbligatorie, poi tutti hanno le assicurazioni legali, le assicurazioni civili e via dicendo, non ci si azzarda a non avere tutte le coperture legali in Svizzera perché se succede qualcosa ci si fa tanto tanto male, quindi è un settore molto molto forte. Andrea chiede, secondo te è utile iniziare un lavoro tax, quindi fiscalità internazionale in una big four o partire da audit per aumentare l'exit opportunity? Questo l'avevamo affrontato qualche settimana fa in un'altra live c'erano queste domande, ora lì dipende un attimo da quello che è più interessante per voi. Questi sono settori che in ogni caso danno opportunità lavorative, ovvio che se fai fiscalità internazionale è molto più spendibile, se vai a fare fiscalità locale sei limitato alla nazione. Audit è qualcosa che nella mia percezione è molto più trasversale perché tutte le aziende hanno la parte di audit e quindi fanno riferimento alle varie grandi aziende con audit interni, audit esterni, per cui penso che entrambe se prese con un taglio internazionale diano opportunità, a quel punto è veramente un discorso di quello che che vi interessa maggiormente, cioè non sacrificatevi, non datevi martellate sulle ginocchia per essere polite, cioè non fatevi del male andando a lavorare in settori, in ambienti che non vi piacciono, che non vi interessano per avere dopo un'opportunità maggiore, perché iniziate in maniera storta, non cadete in questa trappola, cioè fate sempre qualcosa che vi appassiona, cioè qualcosa che vi interessa, quindi se voi siete interessati a entrambi i settori magari vedete quello che rende di più, fate delle analisi, vedete quali sono le opportunità lavorative, cioè tutte queste scelte, tutte queste A o B, non dovete mai andare a sentimento. Indeed.ch, audit, tax, vedete quali sono le job title che escono, se siete stessi contando, ora ho fatto l'esempio della Svizzera. Stessa cosa LinkedIn, LinkedIn che c'è la sezione ricerca posizioni, mettete Europa o le nazioni che vi interessano e vedete con queste keyword cosa vi appare. Dovete avere sempre dei dati di riferimento, altrimenti è a sensazione, e a sensazione è meglio non fare grossi passi. Un messaggio che cerco di ripetere costantemente è anche quando faccio i vari percorsi di coaching e di consuenze di carriera ricordo sempre le persone che dovete usare LinkedIn, cioè moltissimi dubbi, moltissime perplessità possono essere risolte quando si vanno a prendere i dati, no? Il, ah ma quel tipo di posizioni, le mie competenze possono servire oppure no? Vai, usa LinkedIn, prendi persone che fanno quel tipo di lavoro e vedi se hanno queste competenze, oppure al contrario, parti dalle competenze, fai ricerche e vedi se appaiono come keyword in determinate posizioni lavorative, cioè usatele questi strumenti, usate Glassdoor, usate LinkedIn, usate Indeed, tutto quello che c'è online, usatelo. L'altra volta ho fatto anche un video in cui spiegavo come usare ChatGPT per partire, se uno magari veramente non sa da dove iniziare, quali sono i migliori sbocchi professionali con questo tipo di laurea, quali sono le migliori aziende per queste professioni, cioè queste sono tutte cose che potete fare, che sono molto interessanti e vanno assolutamente considerate come opzioni, eh? Soprattutto se avete l'equivalente del blocco del, dello scrittore o il panico da pagina bianca, mettetevi su ChatGPT o su altri strumenti del genere e iniziate a fare degli esempi di chiacchierata al riguardo, perché sicuramente vi tirerà fuori degli spunti, perlomeno per iniziare a costruire sopra, no? Questo è importante. E funziona, l'abbiamo visto insieme che funziona. E Dante in Svizzera? Allora, e Dante in Svizzera come approcciarli, come farsi notare? La regola è la stessa un po' ovunque. Ci sono vari modi di approcciare i mercati, poi qua si entra molto nello specifico, però per esempio potete iniziare a fare delle ricerche settoriali e a un certo punto vedrete che spesso sono sempre gli stessi nomi che escono, perché in alcuni casi, soprattutto quando si è molto specifici, le aziende tendono, non dico a spartirsi il mercato, ma perlomeno a specializzarsi. Se prendete aziende grandi tipo Michael Page, come aziende di recruitment, headhunting, queste aziende hanno i vari livelli, hanno le posizioni normali e poi hanno le persone che si occupano degli executive, del top management, dei senior manager e via dicendo. Però anche loro hanno varie divisioni, hanno la divisione finanziaria, hanno la divisione tecnica, hanno la divisione ricerca e sviluppo e via dicendo. Quando iniziate a fare delle ricerche probabilmente vi accorgerete che spesso vengono fuori i soliti nomi di headhunter o di aziende e via dicendo e questo magari vi può aiutare a punto direttamente a loro e cerco di capire chi sono, conoscerli e candidarmi. Come avevo accennato prima, approcciarli nella maniera più professionale, capendo il tipo di messaggio, avendo fatto tutto un lavoro a monte. Ragazzi, quando si è neolaureati, ok, magari non dico che sia più semplice, però è più standard perché bisogna lavorare con pochi pezzi a disposizione. Quando si ha una buona seniority, il lavoro di preparazione a monte è importantissimo. Quindi l'analisi, la self-awareness, il capire la mia identità professionale, il cosa voglio, cosa non voglio, a cosa voglio puntare. Una volta che ho chiarito questo, posso andare in maniera professionale. Se io mi presento un endante da, ehi, voglio venire in Svizzera, che posso fare? Magari mi risponderà pure, ma vi siete bruciati? Cioè, un'altra cosa è, io sono questo, ho questa professionalità, punto a questo settore per questo motivo. Aiutami perché sono un buon cavallo, perché ricordatevi che gli edunter, loro guadagnano dalla vostra assunzione, cioè l'edunter viene pagato una buona quantità di soldi quando il candidato presentato viene assunto e rimane un certo periodo nella posizione. Ok? Per cui siete voi la sua risorsa, quindi vi dovete presentare non mendicando un lavoro, ma guardami, sono una tua opportunità perché ti faccio fare bella figura quando andrei a propormi in giro. Per cui c'è un grandissimo lavoro di preparazione su di voi e poi un lavoro importante di analisi del mercato e dei settori. Un altro punto fondamentale è, se avete intenzione di attaccare un certo settore, determinate aziende, non fate per primi i colloqui della vostra vita. Soprattutto se sono i primi colloqui dovete imparare come funziona, dovete avere il mal di pancia, dovete avere il cagotto, dovete avere lo stress, vi si deve impappinare la bocca, è inevitabile le prime volte. Dopo avete fatto due, tre, quattro colloqui, capite quali sono le domande, le dinamiche e avrete molto più di mistichezze e quindi sarete pronti per andare a fare il colloquio alla società dei vostri sogni. Se andate lì come primo colloquio probabilmente non renderete al massimo, quindi attenzione anche a questo come approccio. Roberto Giordano chiede, sulle tue video sul canale che sei passato in molti trasferimenti anche tra diversi paesi, come hai vissuto questi cambiamenti? Sono pesati umanamente? Io sono cintura nera di traslochi, ho calcolato che nella mia vita ne ho fatti, ora non mi ricordo più se 26 o 27, devo un attimo rifare i calcoli. Ho messo in mezzo anche i tre traslochi fatti con la mia famiglia di origine, però nato a Taranto, ho cresciuto a Bari, mi sono trasferito a Roma, cambiate tante case a Roma, poi sono andato a Londra, poi sono andato a Bristol, poi sono andato in Belgio, poi sono tornato a Roma, cambiate varie case a Roma, poi sono andato a Lugano, poi sono andato a Basilea, cambiate varie case anche a Basilea, tornato a Roma, secondo trasloco fatto ad agosto. Ora, i traslochi c'è chi li vive in maniera drammatica, per me invece alla fine oltre dopo 26, insomma, se sei molto abituato a me non terrorizza, io un trasloco lo posso tranquillamente organizzare in una settimana e la parte tecnica dei traslochi a me piace perché ogni volta è un'opportunità di lasciare andare oggetti, ho raccontato anche in un video il mio percorso rispetto al minimalismo, non sono un minimalista però oggi ho il direi 70% in meno degli oggetti che avevo anni fa, molto lontano ancora dal minimalismo, quello bello pulito ordinato, però un grande percorso fatto. Nel tecnicismo dei traslochi ho imparato tantissimo, per cui adesso proprio non mi spaventa dall'organizzazione dei cartoni all'organizzazione dei vari passaggi tecnici, burocratici e via dicendo, quando fai riferimento alla parte umana, Roberto fai riferimento sicuramente al fatto che cambi città, cambi contesto di amici e via dicendo, la maggior parte dei miei traslochi li ho fatti da single, soltanto l'ultimo passaggio in Svizzera avevo una situazione familiare, poi in Svizzera è nata mia figlia, poi c'è stata la separazione e via dicendo e sono tornato, però quando ti sposti da single ovvio che, tenete a mente una cosa, in Italia non siamo tanto abituati ad avere stranieri, persone, perché per quanto ci diciamo tanto accoglienti, tante cose, però in realtà è pochissima la gente che viene in Italia per ruoli qualificati, molto molto più bassa la percentuale di altre nazioni. Quindi quando andate in un'azione o in una città, se siete a Bruxelles, siete a Londra, siete a Bristol, cioè ragazzi le città strabordano di persone nella vostra situazione, se vedete le community di expat, e... internations.org, i Meetup, prima c'era Italians Online, o Italians all'estero, la comunità di Beppe Severgnini per chi è boomer come me, cioè lì ci sono centinaia e migliaia di persone in ogni città che sono nella vostra situazione, persone che sono arrivate da tre settimane, non sanno se staranno lì tre mesi, tre anni o quindici anni, quindi con voglia di connettere, fare network e via dicendo. Io ero a Bristol e ci avevo, ero al secondo terzo piano di questa palazzina, sopra di me c'era questo collega di Napoli e ci siamo trovati insieme poi a Bruxelles, cioè lui è venuto proprio, abbiamo fatto un appartamento in condivisione, o meglio l'ho ospitato nel mio appartamento e quindi abbiamo continuato la tradizione dei pizza party che facevamo a Bristol e abbiamo fatti anche a Bruxelles, le vie, cioè è molto, c'è una grande comunità di persone che si sostengono in questa maniera, portandosi dietro ovviamente anche un aspetto effimero, nel senso che sai benissimo che determinate relazioni hanno delle logiche diverse, non è il sono nato in Puglia, sono cresciuto a Bari, sono rimasto lì per 50 anni, ovvio che il tipo di rapporti che hai lì nel bene e nel male sono completamente diversi, per cui si perde in un determinato tipo di frondità, si guadagna in un tipo di larghezza e poi va bene. Ho anche degli amici che per lavoro hanno viaggiato moltissimo con i figli, pensate soltanto a chi ha una carriera militare internazionale o quelli diplomatici o quelli che hanno dei ruoli che per motivi di carriera devono girare molto e magari ogni 3-4 anni spostano i figli. E allora per certe fasce di età sono traumi, ogni volta che sposti, ah mi stai rovinando la vita, mi stai allontanando dai miei, tutte quelle cose che vedete anche nei film, e però poi magari dopo 10-15 anni questi si girano e dicono, ah però adesso ho amici a Boston, amici a Los Angeles, amici a Madrid, amici qua, là e tutto, quindi ogni cosa ha pro e contro. Lato tuo devi essere una persona predisposta per queste cose, cioè a me piace tantissimo conoscere gente nuova, confrontarmi, aprire, fare network per la parte privata e via dicendo. Se questa cosa ti piace, ti stimola, va benissimo. Io oggi ho amici sparsi in giro per tutta quanta l'Europa, alcuni in giro anche per il mondo, e anche lì paradossalmente sono tornato a Roma e il nucleo dei miei amici si è sparso di nuovo, per cui i miei amici, quelli nella cerchia più stretta, c'è chi a Milano, c'è chi in Svizzera, c'è chi si è spostato in Toscana, c'è chi a Londra, perché se sei in un certo contesto è molto facile che chi sta tornando a te abbia anche questi passaggi di cambi e via dicendo. Per cui lato mio e la parte traslochi non pesa affatto, anzi mi piace poco lì. È un po' costoso perché un trasloco ha dei punti di picco di costi se lo fai per i fatti tuoi. Non c'è niente di più figo del farsi fare un trasloco professionale pagato dall'azienda. Cioè ragazzi, voi pensate ai traslochi, no? Un mese a preparare gli scatoloni, ad ammazzarti, a litigare, a trovare le cose. Immaginate quando l'azienda paga i botto di soldi, migliaia e migliaia di euro, e tu sei con le mani in tasca e arrivano queste dieci persone che in due ore ti impacchettano casa, ti impacchettano pure la saliera dal singolo cucchiaino e via dicendo. Tu sei l'eventilante con le mani in tasca e mezza giornata impacchettano tutto, spediscono e poi in mezza giornata ti riaprono tutto. Una cosa di lusso, no? Per cui lato mio i traslochi sono sempre stati un'opportunità, ne ho fatti tanti anche all'interno della stessa città, soltanto a Roma. Ho vissuto in... credo in sette case diverse, nei vari anni, nelle varie zone. Per cui lato mio va bene, è molto affine come sono io e tra l'altro, sapete no, i discorsi che faccio anche sulla parte immobiliare, con 26 traslochi alle spalle ho capito che lato mio, l'investire nella casa in cui vivere non ha senso. Non ha senso nella maggior parte dei casi, numericamente per ora entriamo in un altro settore, però proprio è una delle cose su cui ci ho fatto pace, per cui non mi preoccupo di essere in una casa di proprietà. Qui sono in affitto, sono felicissimo perché mi dà tantissima flessibilità mentale ed economica e quindi va benissimo. Antonio, ho vissuto in diverse parti di Roma, ho vissuto nella zona Boccea, per chi conosce Roma. Ho vissuto in centro, praticamente a Campo dei Fiori, in Via delle Zoccolette, un anno meraviglioso. Ho vissuto vicino al parco della Caffarella, vicino al parco degli acquedotti, vicino Cinecittà, in diverse parti, però quasi sempre sulla direttrice della linea A. Non mi sono mai spostato verso l'Eur o verso Roma Nord, sempre diciamo in direttrice, perché anche lì lavorativamente mi spostavo, cioè mi spostavo in base anche alla situazione lavorativa, mi dava questo grande vantaggio. Cercare lavoro è un lavoro, ragazzi, parliamoci che retondo. Ne parlavo proprio l'altro giorno, c'è questa persona con cui sto facendo delle consulenze di carriera, e lui giustamente aveva realizzato come impostare una svolta nella parte carriera implica una tale riorganizzazione delle idee, una tale quantità di attività da fare su di sé rispetto al mercato, rispetto alle persone con cui si viene in contatto, per cui letteralmente cercare un lavoro è un lavoro, e non è banale. Consiglio, come ricordare la maggior parte di ciò che si fa al lavoro? A volte mi sento di dimenticare le cose. Ho una specie di memoria selettiva, credo che al lavoro non vada bene. Cosa posso fare? Interessante domanda. Al lavoro si impara tantissimo, questo è uno dei punti, mi dai anche un gancio per discutere su una cosa un po' collegata al discorso generalisti specialisti. E a me fa sorridere quando vedo le persone che credono che i 30 anni di carriera siano un proseguimento di quello che è studiato per 3-5 anni all'università. Follia. Cioè, follia credere che 5 anni di teoria e libri sia veramente determinante per i 35 anni successivi, perché, come dici tu, giustamente si impara tantissimo al lavoro. Cioè, al lavoro tu impari l'equivalente di altre 5 lauree per la quantità e la mole di cose, procedure, tecniche che impari. Probabilmente non è un discorso di memoria selettiva, Trouble Productions, è un fatto di come funzioni. Cioè, io ho affrontato, ho avuto diversi ruoli nella mia carriera, dal procurement, maintenance engineering, la parte energy, responsabile dei contratti, facility management, real estate, strategie, contract management e via dicendo. Quando sei esposto a tante cose, il fatto che alcune te le ricordi altre di meno, probabilmente perché alcune sono più affini al tuo modo di funzionare al meglio. Ora, se individuate delle best practices, cercate di ricordarvele più che altro, non puoi affrontare il lavoro come l'università. Cioè, a mio avviso, sì, benissimo, build a second brain, costruisciti, però vedo tanta teoria e ho paura che ci si perda nel tool, no? Invece di diventare un tool diventa il tuo mondo dominante. Allora non vorrei che si cadesse nella trappola del perdere tantissimo tempo a costruire il tool o il processo a supporto dell'apprendimento e poi non avere il vero apprendimento. Io quello che mi sono accorto è che quando lavorando ci sono delle best practices come mindset, quelle le assimili. Magari quello che ti consiglio è se ti trovi in presenza di una presentazione veramente fatta bene, un progetto che dici cavolo come hanno trasmesso bene qua le informazioni, come hanno visualizzato bene, oppure che bel breakdown che c'è stato di questa parte, o come è strutturato bene quel contratto, ecco, queste cose magari mantienitele da qualche parte. Perché poi un domani non puoi ricordare, ragazzi, noi non possiamo immagazzinare tutto quanto, è impossibile, andate in burnout se pensate di poter tenere tutto quanto in mente. Ed è anche la logica, no, del build second brain. Cioè, se hai un qualcosa che ti permette di conservare, stoccare le cose di qualità, poi sai anche che quando tra cinque anni ci sarà una presentazione su una strategia, a cavolo vado a pescare quello. E poi molto del lavoro di retention di queste informazioni e best practices tecnicamente lo fa anche l'azienda per te. Cioè, se io sto in azienda e adesso devo affrontare qualcosa, chiamo il mio collega, ehi, ma ti ricordi quando avevamo fatto quel progetto? Io ora non mi trovo questi file, te li ritrovi tu e magari si recuperano. Oppure, l'altra tecnica è, questo è più collegato alla parte di comunicazione, se dovete fare delle presentazioni importanti è, fatevi dare da chi gravita attorno o fa supporto del manager a cui dovete fare magari la presentazione, che tipo di comunicazione ha, fammi vedere delle presentazioni o degli standard che lui ha usato o lei apprezza e quindi seguo quello stile. Però in generale, coraggiosa è la tua scelta ovviamente di uscire perché non vedevi determinate opportunità, ovviamente da valutare in dettaglio perché magari, io dico sempre ricordatevi, le grandi aziende magari vi danno delle opportunità anche internamente di spostarvi. Più specificatamente per la parte come ricordarsi, non potete ricordarvi tutto ragazzi, potete essere qualsiasi cosa, non potete essere tutto, you can be anything but you cannot be everything, in inglese rende meglio secondo me, e magari usalo anche come spunto per riflettere su chi sei. Salinger, il giovane Holden, a un certo punto credo che ci fosse un passaggio che diceva tu devi andare a scuola e studiare perché devi capire di che misura è la tua mente. Devi essere esposto a filosofia, matematica, storia, geografia, chimica per capire cosa ti piace e cosa non ti piace. Ora, se tu lavorativamente sei stato esposto a varie cose, il fatto che alcune ti sono rimaste addosso e altre no, probabilmente potrebbe anche essere un modo per, ciao, per esempio io, a me scivolano addosso le cose che sono puramente procedurali. Perché io sono strategic thinking, non sono compliance, steps e via dicendo. E quindi non è un caso che quelle parti, cioè o me le scrivi proprio col pennarello sul laptop oppure io me le dimentico. Questo magari può essere uno spunto di riflessione per capire come tu funziona meglio lavorativamente e si collega al test di Clifton, il test di cui parlo spesso, ho fatto anche di video a riguardo. Domenico dice un consiglio sul tipo di città da scegliere in cui vivere in base al momento della vita e conseguentemente l'età e in base alla tua esperienza. Abbiamo detto che scegliere la città, la nazione, il contesto in cui vivere avrà un impatto veramente grosso sulla vostra carriera e sulla vostra vita. Ed è assolutamente corretto aspettarsi che le priorità siano diverse in diversi momenti della vita. Se io penso al Maurizio trentenne, Londra, in Europa Londra, io ho sempre descritto Londra come la città, tu cammini e c'è l'energia dei marciapiedi che ti vuoi ne voglia di entrare e iscriverti a fare un MBA in qualche business school. È una città che da quel punto di vista ti fa impazzire. Se poi hai figli da crescere, ricordatevi Londra è la città che c'ha i cassonetti per invogliare la gente a buttarci dentro i coltelli e non girare armata, no? Cioè inizi a ragionare e fare determinate considerazioni, se hai una situazione diversa, familiare e tutto, che non faresti inizialmente. Lato famiglia, lato età anche successiva, io adoro follemente la Svizzera, io sono innamorato della Svizzera, sapete, ho passato otto anni a Basilea e secondo me è uno dei posti che c'ha il miglior bilanciamento, qualità della vita, opportunità e via dicendo. Lato carriera, non ne parliamo, soprattutto lato ovviamente stipendi, opportunità finanziaria, ottimizzazione fiscale e tutto questo pacchetto è importantissimo. A seconda delle fasi della vita ovviamente potete mettervi in gioco diversamente. Io ho detto io quando a nel 2005, quindi a 33 anni e mezzo, ho deciso di andare in Inghilterra, io ho rassegnato le dimissioni, avevo una posizione ottima da manager e con un bello stipendio e sono andato in motocicletta in Inghilterra. Ho fatto il traghetto, ho preso il traghetto Civitavecchia a Barcellona e poi ho guidato Barcellona a Londra in moto. Lo racconto questo viaggio nell'intervista nel podcast con Davide Cervellin. È ovvio che oggi ha 51 anni, a parte che non vado più in moto, ma non avrebbe proprio senso, cioè non potrei farlo perché ho una figlia, ho delle aspirazioni diverse a livello di carriera, un'energia diversa e via dicendo. Quando siete giovani o quando siete in determinate fasi della carriera esplorate, spaccate e mettetevi molto in discussione. Quando si cresce siate realistici col fatto che appunto se avete famiglia, figli e via dicendo, molto probabilmente soprattutto in presenza dei figli, che come nella carriera il turning point è quando iniziate a gestire persone, nella vita personale il turning point non è quando avete una relazione ma quando avete figli. Sì, già la relazione è nel bene e nel male un turning point, ma l'avere figli vi ribalta completamente le priorità. Senza citare il grande Giorgio Mister Rip, sapete, lui ha tre figlie con tutta la logistica e la complessità dell'avere tre figli, però è esattamente quello che lato vita e lato carriera avete fasi diverse. Lato carriera, accumulare, fare esperienza, crescere, mettersi in discussione, soprattutto esplorare, perché ragazzi ma quando uscite dall'università ma voi non avete neanche idea di quali siano i lavori che si possono fare nelle aziende, cioè non solo di quali sono le aziende o le macro aree, ma entrarete in aziende, scoprirete che ci sono ruoli, divisioni e funzioni di cui non avete la minima cognizione, perché nessuno ve l'ha mai detto e anche perché ogni azienda, fatto salvo dei pilastri principali, ha comunque un modo diverso anche di gestirli. Ci sono aziende dove certi ruoli, certe funzioni sono accorpate, altre dove sono spacchettate, altre hanno una logica amatrice, per cui si apre un ventaglio di opportunità che non conoscevate prima e quindi prima avete visibilità, prima capite cosa c'è, meglio potete impostare la vostra carriera. Lato vita personale, se siete single, ovvio che l'energia e la voglia di fare il tipo di vita sociale che vi aspettate a 30 anni è completamente diversa di quella a 50 anni. Io non sono stato mai un tipo la discoteca, ma è chiaro che la mia vita sociale a 30 anni non aveva niente a che fare con quella da cinquantenne, no? E sarebbe quasi grave se non fosse cambiata nel frattempo, se non fosse evoluta o comunque mutata in qualcos'altro. E poi la terza dimensione appunto, che è quella veramente importante, è quella familiare, per cui anche lì una cosa sono le nazioni posti stimolanti da soli o in compagnia, un'altra è quando si hanno figli. Magari vedete Giuppi, Giuseppe Funicello, lo sapete, lui è un amico, ha un canale che vi invito a seguire e loro hanno anche questo canale Instagram, Slow Travel Family. Loro hanno fatto, stanno facendo in realtà proprio questa esperienza di nomadi digitali con un figlio piccolo. Quindi lui informatico, la moglie nel settore psicologico e il bimbo lo stanno portando, quindi raccontano anche queste esperienze bellissime di andare in queste scuole internazionali, c'è tutto un movimento internazionale di homeschooling per i ragazzi, molto molto interessante. Quelle cose per esempio non c'erano a suo tempo, io non avrei potuto farlo perché l'amministrazione, quando c'è stata la situazione familiare, era un po' diversa, però dovete tenere proprio a mente queste tre dimensioni. Carriera, spara, 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 accumula, crea esperienza, consolida e poi capitalizza su quelle che sono le tue cose principali. La parte energia e aspettative di vita privata, se i trentenne, se i quarantenne, se i cinquantenne sono necessariamente diverse, e la parte familiare. E siate anche consci del fatto ragazzi che, mi sembra ci sia un detto credo arabo che dice qualcosa del tipo, se vuoi far ridere Dio raccontagli i tuoi piani. E quindi c'è anche un momento in cui vi fate tutti quanti dei piani, vi fate tutti e poi succede un qualcosa che può essere una situazione familiare, una situazione di salute, una congiuntura di situazioni economiche. Io magari sono, ho creato tutta una carriera su un qualcosa, poi esce l'intelligenza artificiale e tutto quello su cui ho costruito overnight vale zero, è ovvio che devo riconsiderare tutto. Per cui tenete questo a mente e fate l'esercizio di cui ho parlato nei video della pianificazione della vita. Cioè l'esercizio di pianificazione della vita vale come esercizio, cioè non è che voi quando fate il design your life, quando fate il ten years plan, le tue odyssey, quando le unite e via dicendo state scrivendo la vostra vita nella pietra e quindi dovete fare quello. No, ma è l'esercizio di per sé, cioè step back dieci anni, ma se mia figlia in questi anni deve stare alle scuole elementari e medie, è chiaro che non mi devo mettere a fare voli pintarici perché probabilmente nella mia situazione non potrò spostarmi. Magari quando dovrò fare liceo-università si aprono determinate opzioni. Se io adesso sono single fino a questo punto qui, ma se poi c'ho in programma che è con la mia compagna, è chiaro che in quel momento dovrò chiudere determinate opzioni e aprirne altre e via dicendo. Cercate sempre di immaginare cosa impatta cosa facendo quel tipo di esercizio. Per me è stato molto utile, ve lo consiglio. Uè Giuppi! Lupus in fabula! Esatto, seguite il canale, i canali di Giuppi, perché lui oltre ad avere i canali in cui parla come informatico, tutta quanta la parte formazione e roba di cui io non ne capisco niente, vedo ogni tanto i suoi video, ma ovviamente le mie competenze di coding sono prossime allo zero. Però appunto il loro esempio sul come si può pensare fuori dagli schemi nel pianificare un percorso di famiglia, ragazzi, è assolutamente illuminante perché vi fa vedere come certe scelte che magari nei binari normali si possono fare in una certa maniera, invece possono essere gestite in maniera alternativa. E tra l'altro collegandosi proprio alla domanda di inizio live, l'impatto dello smart working. Pensate proprio su Giuppi cosa significa, la libertà che sta dando a lui, alla moglie e al figlio, il poter gestire due carriere in smart working rispetto a questa cosa del... non li vedo nomadi digitali, credo siano più una famiglia, no? In viaggio. E per me questo è tutto quanto si mette insieme, cioè sono tutti pezzi che pianifichi la tua vita dieci anni fa, anzi cinque anni fa, lo smart working non fa parte dell'equazione, poi ti arriva lo smart working, prendi quel piano, lo puoi appallotorare, lo butti e lo rifai sapendo che c'è qualcosa di nuovo. Assolutamente da considerare nella pianificazione. Quindi, e se ecco perché ti fischiamo le orecchie Giuppi, esattamente, stavo parlando di te e dei tuoi canali, ok? Quindi seguitelo, anche sulla parte Instagram, perché fanno delle belle riflessioni proprio su questo. E partito tutto, no, Giuppi, dalla domanda del come pianificare, come scegliere le città in cui vivere o i posti in cui vivere in base alle fasi della vita. Ecco, pensate il tipo di flessibilità che vi può dare uno strumento come uno smart working, che quattro anni fa semplicemente non esisteva per il 99% delle persone, quanto questo vi può permettere di avere un determinato tipo di flessibilità e di... anche di mindset diverso. Perché? Perché poi diventa un'altra cosa. Cioè, ho una persona che sto seguendo con la consulenza di carriera che sta facendo l'approccio opposto. Cioè, tipicamente noi, questo è il mio settore, questo è quello che voglio fare e vedo eventualmente se c'è lo smart working. Se invece nella fase della mia vita, quello è il requirement fondamentale, inverto il processo e dico, partendo dal fatto che voglio fare qualcosa che mi permetta di lavorare in remoto, con le mie competenze, con il mio percorso, cosa... a cosa posso puntare? Quello dicevo prima, no? Nella ricerca del lavoro, la parte di self-awareness, la parte di analisi, la parte di... è fondamentale. Ed esattamente questo, cioè quando io metto quello come pilastro, posso costruire attorno. Che è quello che ha fatto, mi permetto di raccontarlo Giuppi e sua moglie, che è passata da un lavoro nello stesso settore, ma più tradizionale, si è ricostruita la sua professionalità attorno alla priorità di avere qualcosa in remoto che permettesse di sviluppare un progetto di famiglia. Cioè, vedete come tutte queste cose... tre anni fa non ne avremmo mai parlato di questo. Per me è fighissimo. Esatto, la moglie di Giuppi è psicoterapeuta e... allora, io ho iniziato il percorso con la psicologa quando ero a Basilea, quando è iniziata tutta quanta la fase pandemica, ci siamo trasferiti dagli incontri dal vivo agli incontri in remoto, ora che sono tornato in Italia, ho mantenuto questa persona che mi segue ormai da quattro anni. Tu pensa, cinque anni fa, a parlare di fare queste cose in remoto, no? Esattamente, psicoterapeuta non avrebbe mai potuto considerare questo mattoncino nella pianificazione. Per cui sono tutte cose che si sommano a... che vanno considerate, Domenico, in quei ragionamenti sul scegliere dove vivere, che è una delle facce del scegliere come vivere, che è collegato quindi allo scegliere come lavorare. Allora, in momenti diversi della vita, parti da uno di questi. Quando si all'inizio magari dice appunto come voglio lavorare, però con grande importanza sul dove vivere e via dicendo. Ricordatevi una cosa anche, l'impatto del dove vivete, soprattutto quando si parla di nazioni che hanno tali differenze salariali, è fondamentale soprattutto per la parte finanziaria. Ragazzi, io personalmente non lavoro per la gloria. Mi piace tantissimo il mio lavoro, sono felicissimo, però è inutile negare l'importanza della parte salario, della parte finanziaria nelle nostre carriere. E quando parliamo di certe scelte, cioè tecnicamente influirà molto di più la nazione in cui decidete di andare a vivere, magari dello specifico settore, perché se vado a lavorare in un settore fighissimo, all'avanguardia, in una nazione con stipendi bassissimi, automaticamente posso avere il più alto saving rate, ma saranno noccioline nel momento in cui mi dovrò confrontare con la mia futura vita, magari in altre parti del mondo più costose. Quindi tenete a mente big picture, no? Tutte queste considerazioni sono... vedete come si collega tutto quanto alla fine. Per questo a me piace molto il fare il passo indietro e pianificare tutti gli aspetti. Se vi ricordate quando io ho fatto l'esercizio della pianificazione dei dieci anni, ho messo tutto. Cosa mi aspetto finanziariamente, cosa mi aspetto a livello di energia, perché è inutile che penso che a 65 anni vado a farmi l'escursione delle cime, delle montagne e cosa. Quali età avrà mia figlia in quasi fasi scolastiche sarà, quindi quali saranno molto vincolate, quali saranno più libere, quali saranno le mie aspettative. Quando metti tutti insieme puoi veramente iniziare a pensare che tipo di logica ci può essere dietro. Poi appunto se sei come giuppie famiglia, vai e lo fai. Qualche giorno fa qualcuno mi ha chiesto, Maurizio parli spesso del libro che ti ha aiutato ad andare a Londra nel 2005, andare in Inghilterra anzi perché sono andato prima a Londra e poi a Bristol, e mi chiedevano pensi che quei principi siano sempre validi? Io parlo sempre del fatto che mi sono trasferito all'estero nell'età analogica, perché ovviamente la preparazione oggi è completamente diversa. Si faceva riferimento a questo, come trovare lavoro a Londra ed intorni. Un libro che io ho letto il 21 febbraio 2005. La mia abitudine quando leggo i libri, quando li completo, metto la firma e il giorno in cui li ho completati. Alcune volte mi scrivo anche magari dove ero, ho delle emozioni e vi dicendo. Nel 2005 io ho deciso di andare all'estero e ho trovato questo libro, edito dalla Franco Angeli, che per me è stata una bibbia. In questo libro Roberto Vanzetti, ingegnere, e Federico Denardi, laureato in lettere alla Caffoscari, descrivono proprio un manuale su come muoversi per andare a lavorare a Londra. Ora, stiamo parlando del 2005. Ragazzi, per molti di voi è preistoria. C'era una fase embrionale di internet. Sì, si potevano fare alcune cose, ma non tantissime, e soprattutto per Londra, sempre quel discorso che facevamo prima della competitività, era importante bleffare. Ora, mi spiego. Amici a Londra, dice, davano il loro indirizzo, per cui tu facevi il curriculum mettendo l'indirizzo di Roma e l'indirizzo di Londra. E quando ti chiedevano, ma tu sei a Londra o a Roma? Tu dici, no, no, guardate, io mi muovo tra tutte e due, perché sono già a Londra, c'ho già una casa, poi faccio ancora delle attività, per cui bleffavi per poter dire che se ti vogliamo oggi è venerdì, vogliamo che inizi a lavorare lunedì, non c'è problema, perché tanto io sono già preparato. Poi probabilmente dovevi fare i salti mortali. Ti prendevi la sim inglese, quindi andavi in giro con i due telefonini, sperando che ti chiamassero, e tutto quanto cercavi di risultare il più possibile combat ready al mercato lavorativo londinese. Poi come si cercava era completamente diverso, cioè io quando vedo gli appunti in questo libro, no, vedete, al di là che il libro è tutto quanto sottolineato, perché l'ho veramente studiato tantissimo, però a fine, a fine, nelle ultime pagine di copertina mi segnavo tutte le cose da fare, quindi c'erano gli indirizzi delle library, quindi delle biblioteche dove andare con tutti quanti, io mi ricordo c'erano questi libroni che erano l'equivalente della guida, praticamente con tutte quante le aziende registrate, per cui tu dovevi prima capire cosa dovevi cercare, quindi magari dovevi vedere tutte le categorie delle aziende, e allora scoprivi che c'era la categoria aziende nel settore energetico, aziende nel settore petrolifero, aziende nel settore servizi alle aziende energetiche, perché non sapevi proprio cosa cercare, quando lo trovavi, ti prendevi il librone, biblioteca analogica, e ti beccavi tutti quanti gli indirizzi delle aziende di quel settore cercavi di entrare in contatto, quando trovavi degli annunci sulle varie riviste, e loro qui appunto ti dicevano guarda qua ci sono le library dove trovi queste informazioni, queste sono il tipo di mail che devi mandare, queste sono le tipi come trovare casa, come trovare il telefono, come trovare e come farsi la mailbox, no? Quali sono i giornali quindi e i siti del Telegraph che usciva la domenica e il giovedì, The Guardian che usciva il giovedì, The Evening Standard che usciva il lunedì e il mercoledì, cioè questo tipo di consigli all'interno di questo libro. Perché ve lo racconto? Perché per me è stata letteralmente la Bibbia. Alla domanda i consigli che sono qua dentro sono ancora validi? Sì e no, cioè il mindset sì. Il mindset di questo libro, ragazzi, è dovete fare un culo così, dovete andare convinti, determinati, dovete tutto quello che potete fare dovete farlo, che sia dal trovare già un indirizzo, dall'avere già la giacca con tutti gli abiti per un colloquio pronti a Londra in maniera tale che se vi chiamano potete partire con una maglietta, vi cambiate e andate lì e via dicendo. Ovvio che oggi va tutto rivisto in un mondo dove è tutto quanto fatto via internet, probabilmente oggi il colloquio lo fate in remoto, non avete bisogno di prendere al volo l'aereo e andare a Londra. Però ve lo racconto perché proprio qualche giorno fa ho contattato l'autore, ho contattato Roberto Vanzetti, ingegnere, l'ho trovato su LinkedIn e ho detto scusa ma sei tu ad aver scritto questo libro? E lui mi ha dato una risposta simpaticissima e mi ha detto guarda sei la prima persona che me lo chiedessi sono io e io l'ho ringraziato perché il tuo libro nel 2005 per me è stata la Bibbia per andare a lavorare all'estero. Adesso era proprio una cosa di questi giorni quindi siamo rimasti che ci sentiremo per raccontarci un po' la storia, però mi ha fatto ridere il fatto che mi ero dimenticato di fare quello che mi insegno sempre, usare LinkedIn, quindi a un certo punto ho detto ma questo non è soltanto un libro, sono anche nomi, quindi l'ho contattato, è un coetaneo praticamente, e mi ha fatto molto piacere il ritrovare chi mi ha aiutato in questo passaggio, quindi cosa molto simpatica. Vi ripeto, come libro non so, credo sia ancora disponibile, per me è stato importantissimo soprattutto il mindset del fate tutto quello che potete fare, non è detto che sia sufficiente ma non potete non fare i compiti. E' un po' come quando vi parlo della preparazione per i colloqui, quando vi dovete preparare per un colloquio ci sono due o tre blocchi, c'è la parte vostra, lavorare, le risposte, la storia e via dicendo, e poi c'è la parte fare i compiti, ragazzi voi dovete studiare le aziende, dovete capire chi sono, scaricarvi tutti i documenti che stanno facendo le news e via dicendo, perché, e l'ho visto succedere, trovare il candidato che non ha idea di chi sia l'azienda, cioè se siete fuori, punto, perché mi rappresenti una sciatteria inaccettabile. Puoi essere pure bravo, ma ce ne sarà un altro bravo quanto te, più motivato. Ragazzi, questo libro, Volevo solo vendere la pizza, per me dovrebbe essere un libro della Garzanti, pubblicato nel, Google. Allora, io l'ho letto, come vi dicevo, l'ho finito di leggere il 10 giugno 2007, commento, letto al volo, puntini, illuminante. È un libro bellissimo, del 2007, appunto scritto nel 2007, di cosa parla? Ve lo faccio breve, ma veramente vi consiglio la lettura, perché ho riscontrato tutto quello che ho letto qua dentro. Questa persona, a Roma, sapete a Roma c'è la pizza al taglio, come street food, quindi queste teglie di pizza piatta con tantissimi gusti, ti tagliano i rettangoli pesati e si mangia, come a Bari c'è la focaccia e via dicendo. Queste persone, le classiche chiacchiere tra amici. È però che business figo, compri a un euro un pezzo di pizza, ma alla fine questi sono 10 centesimi di farina, 10 centesimi di condimento, probabilmente paghi tot per l'affitto e il coso, i margini sono ottimi. Apriamo una pizzeria al taglio. No, un po' come l'hai più rivisto quel progetto di esportare la piadina romagnola per i più anziani, le classiche cose del apro il chiosco qui e la piadineria lì e via dicendo. E lo fanno, cioè queste persone proprio comprano il locale, comprano e iniziano il business e iniziano un viaggio tragicomico, è assolutamente vero, perché queste sono persone vere che l'hanno fatto veramente, è documentato, e ci sono anche le interviste, il viaggio all'interno della realtà italiana, dove in Italia ricordatevi, collegandoci al discorso di prima, che qualunque idea di business nel mondo, se ti ho un'idea di business, devi vincere contro il mercato. Io ho la mia idea, diventa una società, diventa un software, diventa un prodotto, un qualunque cosa e devo combattere col mercato per vincere. In Italia devi combattere prima contro lo Stato, se sopravvivi alle forche caudine della burocrazia, delle leggi e tutto, allora poi devi andare a combattere anche nel mercato. Per questo chi riesce a fare imprese in Italia, per me sono dei supereroi e tipicamente poi quando vanno all'estero fanno risultati assurdi perché è come aver fatto un bootcamp con i Navy SEAL, no? E allora loro iniziano questa parte di business e raccontano tutto, dalla burocrazia alle spese relative all'antincendio, alla parte del ten safety, al trovare dipendenti. Ragazzi, avere dipendenti in Italia, ora non voglio essere, non voglio esagerare, però vi espone a una serie di problematiche che non avete idea. Qui ne sono raccontate alcune. Ora non vi racconto il finale, però come immaginate il titolo è al passato, volevo solo vendere la pizza. Per cui io lo racconto, l'ho consigliato a Mr. Rip, se l'è letto e anche lui adesso lo consiglia tantissimo. È un libro appunto della Garzanti, a suo tempo costava 14 euro, ovviamente il libro funziona solo se lo comprate dai miei link, però no, veramente ve lo consiglio perché è un viaggio nelle dinamiche della burocrazia, negli scontri sul personale, i sindacati, la parte normativa, i bagni, l'HCCP e via dicendo. Questo è un business specifico, ma vi assicuro che non è lontano per tutto il resto. Per cui lo consiglio fortemente e io credo che sia una specie di mini MBA per la parte imprenditoriale, per cui soldi ben investiti tra l'altro è scorrevole, ma vi fate delle risate e dei pianti leggendolo e ricordatevi che nel bene e nel male è proprio quello, cioè gli uffici funzionano così, le persone funzionano così, le dinamiche sono così, quindi lettura assolutamente consigliata. Con quelle che sono le situazioni attuali, soprattutto lavorative, le dinamiche, penso che sarebbe ancora peggio sotto certi aspetti, però soprattutto per chi fa delle ipersemplificazioni rispetto alle opportunità di business è una grande lezione che si legge qui. Faccio riferimento anche a quelli che fanno le cose ipersemplificate relative a il bed and breakfast o l'investimento immobiliare e via dicendo, i tipi di analisi che facciamo insieme. Tra l'altro su quello, così come ho fatto il video sul comprare e affittare, probabilmente farò anche un video dove vi faccio vedere cosa considererei se dovessi avere un'ipotesi di investimento immobiliare da mettere al reddito, che tipo di passaggi fare. Nella community YouTube ho condiviso oggi o ieri, credo ieri, un video di Luca Di Scacciati in cui fa vedere l'investimento immobiliare in Svizzera, che già dovrebbe funzionare molto meglio e vi fa vedere quanto rispetto all'investimento puramente finanziario, quanto sia una follia sotto certi aspetti seguire la parte immobiliare. Ragazzi, queste due cose mi hanno tirato fuori veramente, c'è un libro del 2005 e un libro del 2007 mi avete fatto tornare giovane nei miei 30 35 anni. Qui era il periodo in cui facevo, iniziavo a fare imprenditoria lato investimenti immobiliari. Ricordatevi che nei miei link, sotto la descrizione del video, c'è un link con quelli che sono i miei consigli di lettura. Ovviamente, ovviamente sono link affiliati Amazon, sappiate, però lì ho cercato di mettere insieme tutti i libri che io consiglio lato business, lato finanza, lato crescita personale e poi ci sono anche dei libri consigliati da voi. Vi ricordo che io ho fatto queste scorecard per studenti universitari e per professionisti per fare un assessment della situazione, quindi ci sono i link in descrizione in tutti quanti i miei video. Vi invito a farle perché ci sono degli ottimi input per voi e mi aiuta anche a capire come è il posizionamento di chi segue il canale. Poi faccio queste attività di consuenza per la carriera, anche quelli ci sono tutti quanti i link in descrizione. Ora sto lavorando sul sito, è già operativo il sito www.maurizioparensan.com. Devo un attimo sistemare alcune cose per i collegamenti, però diciamo quello sarà il mio punto di partenza. Vi ringrazio ancora, vi invito a scrivere se ci sono delle domande specifiche o qualcosa che volete approfondire o nei commenti del video oppure nel canale Telegram a cui potete scrivere in alto a destra nel banner di YouTube. C'è tutto quanto. Nelle prossime settimane dovrebbero uscire anche un paio di interviste con persone molto interessanti con cui sto collaborando. Vi invito a sentire il podcast registrato con Davide Cervellin, quindi sono stato ospite del suo Office of Cards, quindi seguite il suo canale YouTube e il suo podcast perché è molto interessante. Lì ho veramente raccontato in quasi due ore tantissime cose della mia vita. Ok? Grazie a tutti e ci vediamo alla prossima. Ciao!